Ho smesso di fare trading manuale e in questo video ti mostro esattamente come anche tu puoi farlo in modo da liberare il tuo tempo e dedicarlo alle cose che per te più contano. Premetto che questo video è per persone che già fanno trading, che già hanno un'idea di che cosa sia il trading e come funziona. Se sei alle prime armi ti consiglio di andare a vedere altri video su questo canale in cui ti spiego bene come funziona il trading. Farò a breve anche un videocorso completo da zero a pro nel trading. Perché? Perché automatizzare richiede che ci sia all'inizio una competenza specifica già costruita a monte. Quindi se io voglio automatizzare qualcosa devo riuscire a fare quel processo prima manualmente. Nel momento in cui riesco a fare quel processo manualmente allora posso pensare di automatizzarlo e renderlo più efficiente. In particolare da quando ho iniziato a fare trading in questo modo ho eliminato quasi praticamente il trading tradizionale. Premetto che già in realtà non faccio trading manuale da ormai tanto tempo. In realtà faccio poco trading, non ne faccio più tanto come facevo una volta, però tendenzialmente ad oggi lavoravo creando degli ordini a limite. Cosa sono gli ordini a limite? Sostanzialmente io vedo il prezzo che si muove, facciamo finta così, riportiamolo anche da qua più o meno uguale, non è uguale ma va bene. Ci sono due modi di far trading, uno manuale, quindi mi metto, mi siedo lì sul grafico, guardo e dico ok il prezzo si sta muovendo così, ora che ne so qui entro long. Perché penso che il prezzo salirà, il prezzo sale, mi posiziono un target, stop loss, take profit e poi aspetto, poi riguardo il grafico, entro short e via via così. D'altra parte un modo automatico che è quello di utilizzare gli ordini a limite. Quello che io faccio è analizzo un grafico settimanale, esempio vedo che il prezzo si sta muovendo in questo range, vado a settarmi per esempio un long qua e magari il prezzo ora si trova qui quindi non sto facendo nulla, quando poi scenderà andrà ad attivarlo bene e lo attiva, se non lo attiva pazienza, sarà per una prossima volta. Poi mi vado a mettere che ne so uno short qua e così via, quindi vado a pianificare in anticipo le mie operazioni. In questo modo io non devo stare costantemente a guardare i grafici, li piazzo, li setto e poi lascio andare facendo quello che si chiama uno swing trade, quindi un trade a lungo termine, non trade intraday, cioè giornalmente apro e chiudo la posizione nel giorno, qui no, apro e magari chiudo la posizione dopo una settimana, due settimane, magari dopo un minuto, magari dopo un anno, dopo un mese, no un anno no è tanto, però un mese magari una settimana, sì ci sta anche, quindi dipende da come si muove il mercato. Lo step successivo è stato quello di andare ad implementare che cosa? Implementare i trading bot. Esistono ormai da un po' di tempo quelli che si chiamano futures bot, cioè dei bot di trading che mi permettono di operare, fare appunto trading sui futures. In particolare io utilizzo i bot di Pionex perché sono secondo me quelli più efficienti, più avanzati e Pionex è l'exchange che ad oggi ci permette di avere molte più soluzioni ed è per me il leader indiscusso sul mercato nell'ambito di trading bot. Perché ha una vastissima offerta di trading bot sullo spot e sui futures e non solo, anche in ambito opzioni, quindi veramente una piattaforma top da questo punto di vista con tutta una serie di cose che possiamo fare. È un exchange che non richiede ad oggi il QSE obbligatorio, è un exchange che ha un approvo reserve, quindi i fondi che io vado a depositare sono auditati, sono lì, c'è una prova ogni settimana, se non sbaglio ogni 15 giorni c'è la prova dei fondi, quindi è un exchange solido con un buono storico e che si è rivelato nel tempo essere un exchange estremamente interessante. È gratuito, qua sotto ti lascio il link con anche dei bonus. Detto ciò ti mostro come vado a fare la mia operatività, proprio nel reale, cioè come vado a tradare utilizzando i trading bot futures. Prima di tutto però ti devo dire che cosa sono i trading bot futures. I trading bot futures sono dei trading bot a griglia, quindi c'è sullo spot il classico trading a griglia dove io gli do un livello basso, un livello alto e gli dico aprimi all'interno di questo range X griglie. Cosa significa? Che lui mi crea degli ordini, a secondi di dove parto, ipotizziamo che il prezzo sia qua, io parto qua, mi creerà qua ordini buy, quindi di acquisto e qua sopra ordini sell. Man mano che il prezzo si muove io vado a guadagnare, tac, vende e guadagno una cifra, tac, vende e guadagno una cifra, tac, ricompra e vado in accumulo, vado in accumulo, vado in accumulo, vendo, vendo, vendo e quindi man mano che oscilla all'interno di queste griglie io incamero profitti. Sui futures è la stessa cosa, solo che ti va ad aprire long e short, anziché buy e sell, e puoi utilizzare la leva. Come utilizzo i futures in questo caso e come non utilizzarli? Perché la maggior parte di persone che cosa fa? Ha mille dollari di capitale, prende, mette mille dollari sul bot, apre una griglia e dice tanto lui fa trading per me. Sbagliatissima, questa roba è sbagliatissima da evitare. Perché? Perché ti liquiderà il conto. Come? Tu hai mille dollari, o mille euro in questo caso, ho fatto il segno dell'euro, quindi mille euro. Vi dico, che ne so, bitcoin scambia tra i 50 e i 60k, tu faccio questo, creo la mia griglia, ho fatto un minimo di analisi, si spera, creo 50 griglie, man mano che il prezzo si muove io guadagno. Ci metto mille euro, leva 10 per, fantastico e aspetto, lui fa trading per me. Quindi compra, vende, compra, vende. Questa roba qui ho detto è sbagliata. Perché si tende a pensare che queste griglie qui è come aver aperto più trade. Che di fatto è così, perché io sto aprendo e chiudendo più trade. Perché man mano che il prezzo si muove, entra qua, long, e poi va a chiudere short qui. Poi sale su, mi riapre lo short, mi chiude il long e così via. Quindi apre e chiude ordini, questo è vero. Quindi si è tentati a inserire un capitale intero e dire lavorami con quello. Perché hai sbagliato questo concetto? Se il prezzo ti va su di qua o il prezzo ti sfonda giù di qua, tu perdi il capitale semplicemente. Cioè tu stai rischiando tutto il tuo portafoglio all'interno di questo sistema qui, convinto che queste siano operazioni singole. In realtà queste non sono operazioni singole, ma sono operazioni che fanno parte di un'unica operazione, di un unico range. Lo so che è difficile da comprendere, ma cercherò di mostrartelo in modo più semplice. Ipotizziamo di avere il nostro 1k di capitale. Quindi abbiamo 1000€ di capitale. Che cosa faccio io? Io prendo una quota di questo capitale. Esempio, l'ideale sarebbe un 1-2%. Se riesci così, ottimo. Se non riesci così, perché magari hai meno liquidità e meno capitale, allora magari cerca di stare almeno, dico io, sotto un 5-10%. Che è quello che succede normalmente quando si fa trading. Chi fa trading sa che queste sono le cifre da tenere in considerazione per l'apertura di ogni singola operazione. Io considero ogni bot che vado ad aprire, ogni bot futures che vado ad aprire, come un'operazione a sé. Un'operazione a sé, con il suo stop loss, il suo take profit, e un tasso di efficienza maggiore rispetto al mercato che calcoliamo e vediamo insieme tra pochissimo. Detto ciò, ipotizziamo su un K di utilizzare, facciamo 10 dollari. Io ho 10 dollari, 1%. Con questi 10 dollari vado ad aprire la mia posizione. Esempio, di nuovo abbiamo detto 50-60K. Questo è il mio range. Io entro long, perché penso che il mercato andrà su. Quindi entro long a, fai finta, ci troviamo a 51K. Entro long qua. E mi creo una griglia con un calo del prezzo che vado a decidere a priori, un target di prezzo che vado a decidere a priori, e qui si va a creare la mia griglia, e uno stop loss e un take profit. Quindi sto creando di fatto una posizione ex novo, una posizione long, con i miei 10 dollari, con la mia leva, che ne so, 10x. Anche qui le leve, cerchiamo di non tenerle troppo elevate. Mi vado a creare comunque la mia posizione, vado ad aprirla al mercato. La differenza di fare questa cosa qui rispetto che farlo con un'operazione normale è questa. Ipotizziamo due operazioni long, una manuale e una con il trading bot. Quella manuale ipotizziamo di aprire a 50K, mettere uno stop loss, che ne so, a 45K, e mettere un take profit a 60K. Quindi io sono entrato long qui, se il prezzo mi va a 60K io guadagno, quindi va in take profit, se va giù a 45K vado in stop loss. Quando io apro una posizione il prezzo non fa questo, cioè non è che io entro e va su, anzi tendenzialmente va giù, poi si muove, oscilla e poi va su. In questo caso che cosa guadagno? Io guadagno quella percentuale, dipende dal capitale che ho investito, dell'operazione stessa. Quindi sono entrato 50K long con 100€, va a 60K, guadagno una percentuale. Se non va a 60K, finché sta qua in mezzo, si muove, non fa un cacchio, io qua non sto guadagnando assolutamente nulla. Guadagno solo quando mi colpisce il mio take profit, o perdo solo quando mi colpisce il mio stop loss. Consapevole del fatto che il mercato è volatile, quindi oscilla, non va lineare in una direzione o nell'altra, parallelamente io faccio lo stesso esempio, quindi 50K entro, stop loss 45K, quindi questo è il mio stop loss, 60K il mio take profit, ma mi creo, che ne so, 30 griglie. Cosa succede allora? Che lui va a aprirmi il long qua, poi mi crea delle griglie fino al mio take profit e delle griglie fino al mio stop loss. Il prezzo, non andando lineare, oscillerà e quindi all'interno di questo range, prima che arrivi o al take profit o viceversa lo stop loss, andrà a chiudere e aprire posizioni. Quindi mi dividerà quel capitale in più micro lotti che ottimizza man mano che si muove all'interno di questa griglia qui. Quindi se oscilla, verosimilmente, se ci mette una settimana ad arrivare al mio take profit, ma mi ha fatto questo tutto il tempo, io qui ho guadagnato tutto il tempo. Questo è il grande vantaggio di utilizzare questo tipo di bot, cioè di utilizzare al di là del mio stop loss take profit anche la volatilità all'interno del range che ci siamo dati. Quindi personalmente come opero, ti vado a mostrare un esempio pratico, ipotizziamo questo qui è bitcoin, questo è il movimento attuale, io vado per esempio, ipotizziamo di aver fatto questo su bitcoin, ci troviamo ora qui. Io qua che cosa dico? Guardo magari i volumi, guardo gli indicatori, guardo quello che vuoi, a seconda di come fai trading, tu avrai una condizione per entrare al mercato, dirai ok voglio entrare qui, entro a questo livello, ah qua sono su solano, non sono su bitcoin, va bene uguale, però tanto il concetto è quello, entro qui, long per esempio, perché mi aspetto che il prezzo tornerà su, entro long, ed esco in stop loss, che ne so, qui, quindi questo secondo me è il mio stop loss, il mio take profit è qui, ok, apro la mia griglia, e aspetto, il mercato come vedi, che cosa fa qua? Ha fatto così, 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 oscilla, e man mano che oscilla mi va a guadagnare qualcosa, quindi questo è il modo in cui io opero, e vado poi ad ogni singola operazione a dare un capitale consolo per quell'operazione, quindi se io ho un K qui, aprirò un long, una griglia long qua con 10 dollari per esempio, in leva a 10, e mi metto stop loss take profit, poi di nuovo il prezzo mi arriva qua sopra, mi chiude il take profit, qui penso che andrà ancora in su, allora entro long, perfetto, mi metto lo stop loss qui, e il take profit qui, oh cavolo, non è andato in su, ha iniziato ad andare in giù, però man mano che andava in giù, qualcosina mi ha preso, quindi mi ha preservato un po' di capitale, poi è andato in stop loss e ho perso, pazienza, da qui dico che allora forse andrà ancora in giù, quindi entro di nuovo short da qua, con take profit qua e stop loss qua, questa volta l'ho preso, fantastico, vedi che lavorando in questo modo, con un capitale sempre di un certo tipo, quindi dare una giusta quota, una giusta size per ogni ordine, mi permette di ottimizzare e gestire meglio poi tutto il mio patrimonio, che ho e che dedico al trading, e contemporaneamente muovermi sul mercato, esempio, avevo chiamato un long qualche giorno fa sul gruppo telegram, e tra l'altro se non sei nel gruppo telegram qua sotto ti lascio il link, è gratuito, è un gruppo chat dove condividiamo idee, dove vado a condividere ogni operazione, tra l'altro anche in copy, perché ho deciso qua su PionX di fare un po' di trading, lanciare un po' di bot, quindi faccio la mia analisi, lancio il mio bot in attivazione, quindi che non parte subito, in modo che tu possa copiarlo, con tutti i setting e un click si copiano in automatico, a quel punto quando partirà, un po' come aver creato un ordine al limite, si attiverà anche per te, in questo modo c'è del tempo e riesci a partire bene, perché mi è capitato di lanciare dei bot belli, cioè che funzionavano bene, però poi magari uno entra in ritardo in quella posizione, il mercato stona, io sono in profitto, l'altro imperita, quindi è un po' un casino, invece in questo modo riusciamo tutti a partire nello stesso punto, e so pian piano, compatibilmente col tempo che riesco a dedicare, andrò a creare un po' di soluzioni di questo tipo, e le metterò tutte gratis all'interno del gruppo Telegram, ovviamente devi avere la registrazione a Pionex, quindi qua sotto ti ricordo, ti lascio il link. Detto ciò, ho aperto per esempio, vado a mostrartelo subito, un'operazione long, futures grid, questa qui, la prima che attualmente è in perdita, questa qua, adesso ti mostro tutto lo storico, perché vedi è successo qualcosa qua, qua vedi subito, dici che cacchio è successo, qua è crollato, no non è crollato, ora ti spiego cosa è successo. È tutto documentato sul canale Telegram appunto, sono entrato con un range che era, te lo scrivo qui magari, 48k, 64k, 48k era il livello più basso, 64k è il livello più alto, quindi questa era la mia griglia, c'erano dentro 50 griglie, creato questo, anzi tra l'altro, penso che si possa anche vedere qua, nei funding history, funding fee, no, balance change, eccolo qua, questo era il bot che avevo creato, però non mi mostra, non mi mostra nulla, avevo investito 33 dollari nel bot, leva 10 per, entrato a 60 e 127, quindi questo era il prezzo, no il prezzo medio in realtà, ah sì no è giusto, sono entrato a questo livello qui, con griglia bassa 48k, griglia alta 64k, stop loss a 48,5k, quindi un pochino più su prima della fine della griglia, e mi pare se fosse in quel range lì, ho 48, 48 e mezzo, comunque più o meno intorno ai 48k, e take profit invece sui 64k, bitcoin era a 60k, ha iniziato a oscillare un po' giù, un po' su, un po' giù, e mi ha fatto profitto, mi ha fatto un profitto del, non ricordo, tipo un 6% se non sbaglio, ecco qua, io ho pubblicato lo screen questo qui, il bot è durato 19 ore, era durato 19 ore, quando ho pubblicato questo screen qui, era ad un 5,94%, mi aveva già incassato uno 0,94%, perché poi il prezzo è salito, intanto lavorava, aveva fatto già nuove operazioni, avevo messo fasce di prezzo 48,64k, abbiamo detto 50 griglie, il prezzo di partenza era questo, il prezzo di liquidazione stimato era 48,5, quindi no, il mio stop loss era sui 50k, il take profit sui 64, quindi aveva già un ottimo rate, la posizione era già andata molto bene, intanto poi era ancora salito, vediamo che si stava avvicinando al mio target, era arrivato a un 63k,5 mi sembra, comunque molto vicino al 64k, allora che cosa ho detto, ho comunicato poi nel gruppo, vado a rimodificare il bilancio, cioè la griglia, e reinvestire il profitto, nel mio caso ho reinvestito il profitto, io ti consiglio forse di farlo, a meno che non sei sicurissimo di quello che stai facendo, cioè nel momento in cui tu vai a cambiare la griglia, ero convinto che mi mantenesse un po' tutte le cose, in realtà quando cambi la griglia, ti azzera quello che è stato, e riparte con una griglia nuova, quindi tanto vale chiuderla e riaprirne una nuova, e questo non lo sapevo, l'ho visto poi adesso sul momento, quindi cos'è successo, è successo che mi ha effettivamente chiuso, gli ho detto reinvesti il capitale, quindi due dollari, li ho reinvestiti, sono 33 dollari, come vedi qua ho cambiato il range, quindi da 33 sono passato a 35 dollari, e ho spostato la griglia come vedi, prima erano 48,64, l'ho spostata, l'ho spostata, adesso ti faccio vedere subito parametri, l'ho scalata a 50k e 66k, sempre 10x, sempre tutto uguale, sempre lo stesso numero di griglie, quindi ora che cosa sta facendo, sta sostanzialmente, qui mi ha chiuso, quindi ho chiuso più o meno in profitto di un 6%, era perché era a metà tra un 5 e un 7,5, era più o meno un 6%, qua mi ha chiuso in profitto di un 6% la posizione, e mi è andato poi a riazzerarla, e quindi a ripartire da qua, ora sta oscillando, il prezzo in realtà è stato respinto, come mi aspettavo, ho altri bot, che comunque stanno lavorando al contrario, adesso vi faccio vedere, però sostanzialmente, adesso non ha ancora fatto, non ha ancora penso fatto assolutamente nulla, vediamo se ha fatto transazioni recenti, il no sta aspettando ancora, vedi mi ha piazzato un ordine adesso a 62,3, a 63k me lo chiude, quindi si muove, va, compra e vende in quel range, e quindi sto semplicemente aspettando che torni su, semplicemente, quindi qua è partita una seconda posizione, con un range un pochino più alto. Altra posizione, qui ne abbiamo, questo qui era un long, quindi sono partito con una griglia long, che cosa fa long? Quando tu piazzi il long, ti va a aprire con buona parte del capitale il long, e il resto lo tiene, si deve acquistare a livelli più bassi, e poi ti va a mettere i vari target di chiusura del long, e ogni volta apre solo long. Lo short al contrario. La neutral invece, che è questa qua che avevo impostato, perché il mercato stava oscillando all'interno del range, quella lì long l'ho aperta, perché è una posizione secondo me singola, che voglio utilizzare per, come ho fatto, profitto, azzerata, riparto, quindi singolo, anche questo è una posizione singola, però l'ho aperta neutral, perché Bitcoin era ancora relativamente laterale, infatti l'ho aperta un mese fa. In un mese siamo a un 16%, il range che gli ho dato è 52,67k, quindi abbastanza ampio, ne ha fatto già 159 operazioni, e questo l'ho fatto perché si muove all'interno appunto di questo range qui. Quindi questo è quanto. In questo caso questo qui è posizionato short, quindi va un po' a compensare la perdita più o meno dell'altro dall'altro lato. Come vedi, questo poi è l'andamento, tutte le transazioni fatte e così via. Più o meno mi fa un 6 operazioni al giorno circa. Anche in questo caso il capitale, vedi, non è un capitale folle, cioè parliamo di 29 dollari. Nel caso di prima erano 33, che adesso ho scalato a 35, poiché ho reinvestito il profitto. Quindi questo è. Sono tutte operazioni che io faccio a sé con questo tipo di operatività che ti ho appena mostrato. Il trucco è proprio quello di andare a investire, o meglio speculare, perché qua parliamo di trading, speculare e aprire ognuno di questi bot in modo a sé stante, con un capitale a sé stante, non con tutto il conto, esattamente come tratteremmo un'operazione normale, con un mio stop loss, un mio take profit. Entro questo stop loss e take profit, mi crea semplicemente una griglia. Questa è la differenza. A soltanto ti lascio il link di Pionex per registrarti gratis. Ti lascio anche tutti i vari bot che ho messo, sia spot che futures, in copy trading. Così ce li hai tutti qua, te li puoi guardare, te li puoi studiare. Ti lascio anche il gruppo Telegram, dentro cui vado a posizionare i bot, via via che li vado a creare per andare appunto long, short sul mercato, quindi quelle che sono le mie posizioni, se vuoi copiarle, o se vuoi prendere semplicemente spunto, tanto una volta che clicchi, puoi decidere se copiarla, dandogli un capitale, o ti guardi i parametri, te li studi, poi tanto comunque nel gruppo spiego anche motivo, quello che sto facendo, così anche a livello didattico, a me non piace fare solo una copia, a me piace che le persone comprendano cosa sto facendo, in che modo, quindi là sul gruppo Telegram troverai tutto, quindi entra, qua sotto ti lascio il link. Ti ringrazio per essere stato qui con me, buon trading, e ci vediamo nel prossimo video.